Cari amici di Smart Video Photography, vi do il benvenuto nella terza lezione che riguarda l'applicazione Filmi Pro. Questa applicazione trasforma il vostro Android o iOS che sia in una vera e propria videocamera professionale. In questa video lezione, che è praticamente la terza del ciclo che sto portando avanti, andiamo a vedere la funzione libreria, cioè come possiamo gestire i nostri clip appena acquisite. E poi ci sentiremo alla fine per i saluti. Allora, eccoci arrivati alla funzione libreria. Spegniamo il nostro faretto per non avere distrazioni dal nostro schermo verde dietro. Allora, innanzitutto la nostra libreria si attiva cliccando su questo tastino che indica il player. Come? Clicchiamo? Accediamo immediatamente alla libreria dei Filmi Pro. Praticamente tutte le clip che abbiamo registrato al momento nel nostro dispositivo. Se la funzione salva il mio rollino è disabilitata, altrimenti salveranno il rollino e questa libreria sarà completamente vuota. Ok? Io consiglio di non abilitarla per tenere un po' d'occhio e ordinati le nostre clip. Andiamo, diamo un'occhiata subito alle caratteristiche della nostra lista. Allora, abbiamo subito, vediamo qua il nome incompensibile, che non si comprende bene della nostra clip, poi vedremo ovviamente come cambiarne. Abbiamo una serie di informazioni che sono la data di creazione, il tipo, qui è un MOV, anche il tipo di filmato acquisito. E qua abbiamo le caratteristiche che riguardano il tipo di risoluzione, ovviamente, del nostro video e la velocità dei frame per secondo, l'audio, anche qua la frequenza e il tipo di campionamento. E sotto abbiamo la grandezza del nostro file, vedete che se vado sotto e prendo file più grossi, ovviamente la nostra grandezza cambia. E qua abbiamo la durata, ok, del nostro, della nostra clip. Una prima operazione che possiamo fare all'interno della lista è semplicemente eliminare una clip facendo lo swipe verso sinistra. Appare il cestino, clicchiamo sul nostro cestinetto e possiamo eliminare la nostra clip o annullare la nostra clip. Io elimino tanto ce le ho, elimino e vedete che la nostra clip scompare dalla nostra vista. Andiamo ad analizzare ora i tastini sotto. Abbiamo il filtro, molto interessante perché ci permette di filtrare la nostra lista. Tramite questi parametri, la prima risoluzione, se io adesso vado a filtrare, forse l'ho cancellato, non lo so, filtrare tutti i miei clip acquisiti a 1080, vedete che la mia lista dietro si aggiorna e ovviamente vengono visualizzati solo i file acquisiti a 1080. Posso ritornare, no, lasciamolo così, vi faccio vedere, posso ritornare ovviamente a tutti, no, non posso lasciarla perché sennò non possiamo andare avanti nei filtri. Tutti ovviamente visualizza tutti, qua la stessa cosa per i frame per secondo e sotto i nostri preferiti che adesso vi faccio vedere come inserirli, come evidenziarli. E qua abbiamo due sorte di ordinamento, data di creazione e grandezza del file, vedete che se io clicco su grandezza cambiano ovviamente dietro le mie, la mia lista. Per riportare tutta, adesso facciamo un po' così, per riportare tutta la mia lista a zero, diciamo default, basta che clicco sotto tutti. E la mia lista ovviamente compare in default come ovviamente l'ho acquisita. Ricordo sempre che per uscire da qualsiasi schermata basta cliccare fuori dalla schermata stessa che si sta ovviamente visualizzando. Per inserire nella lista dei preferiti basta cliccare sulla stellina, vedete che adesso se io vado a selezionare tre clip, vado nei filtri, vado sopra ovviamente a sbilitare preferiti e vado nella mia lista e ci sono solo i miei preferiti che appaiono ora evidenziati nella nostra lista. Ovviamente disattivo preferiti, scusate, disattivo preferiti e viene disattivata anche la mia lista. Ovviamente per eliminarli dai preferiti basta ricliccare sulla stellina. Ok, abbiamo visto la lista come si gestisce, non abbiamo visto tutto però, sotto abbiamo il tasto di selezione. Se io clicco, vedete, si sposta un po' tutto verso di là e mi appare questa barra. Questa barra indica che io, vedete, sto selezionando le mie clip, infatti qua appare il numero tre. Beh, per deselezionarle ovviamente ci riclicco sopra, per uscire dalla selezione basta che clicco di nuovo sul tasto selezione. Adesso se io clicco lungo sul tasto selezione, lui automaticamente me le riseleziona tutte. Riclicco una volta sul tasto di selezione, andiamo a zero selezionate e riclicco per uscire. Quindi questo tasto serve per selezionare le clip. Andiamo avanti. Questi tasti si abilitano solo quando io seleziono una clip. Vedete, adesso ne seleziono altre due. Dunque, se clicco su quest'iconetto verranno condivise sul rullino, come ovviamente indica l'icona. Questa è la condivisione su social, dispositivi esterni, cloud e più chi ce n'ha più ce ne metta. E questo invece è il mio cestinetto, che se io voglio adesso cancellare tutte le clip che ho selezionato, basta che vado sul cestino. Vedete, mi compare proprio che sono due clip che voglio eliminare. Do a nulla, ovviamente. Esco dalla mia selezione cliccando su selezione. Ora vi faccio vedere cosa succede quando io clicco su una clip. Se io vado, ne prendiamo una più grande perché vi devo far vedere qualcosa. Se io clicco sulla clip, vedete che ovviamente viene riprodotta subito la mia clip. Vado in stop, qua abbiamo ovviamente i comandi di player, quelli che troviamo dappertutto, con la possibilità di andare indietro di 15 secondi e andare avanti di 15 secondi. Il primo numerino, questo qua, indica dove è posizionata adesso, vedete, la mia testina. Ok? Quanti secondi, minuti sono passati dal play. E questo invece indica quanto manca la fine, ok, della mia clip. Abbiamo la possibilità di condividere la mia clip su altri dispositivi, diciamo, altoparlanti o Apple TV. Adesso non è collegata perché sono offline. E ovviamente la possibilità di tagliare la mia clip cliccando sulle forbicine e agendo su queste maniglie. Ok? Tirando la maniglia di qua e la maniglia di là. Non si può spostare il taglio, ok? Non si può spostare. Il taglio si fa solamente con le manigliette. Se voglio tagliare, do taglia. Se voglio annullare, do annulla. Se do taglia, che succede? Mi viene proposto questo. Vedete? Di nuovo una proposta di taglio. Io devo di nuovo dare la conferma. Annullerò perché non voglio tagliare nulla. Annulla per uscire. Mi è scappato nulla. Anche qui posso condividere nel mio rollino. Questo tastino mi permette di downgradare, scusate il mio inglese, la mia clip. Ha una risoluzione inferiore. Infatti questa è stata girata con 4K, quindi mi propone le tre risoluzioni inferiori. Se io l'avessi girata a 1080, non ci sarebbe stato a 1080, ovviamente qua. Cliccando sopra, ovviamente, la risoluzione che voglio, diciamo, abbassare della mia clip, viene, ovviamente, immediatamente avviata la, diciamo, la funzione. Posso scopare, ovviamente, con la X, ok? E non succede assolutamente nulla. Sennò ci troviamo, ovviamente, nella parte della libreria, un'altra clip con... si duplica, non viene cancellata, con, ovviamente, la risoluzione più bassa. E l'ultima icona, ovviamente, è questa della condivisione che troviamo all'interno della libreria. Per tornare indietro da questa funzione, da questa revisione della clip, basta che do la fraccetta a questa e per uscire, come tutte le schermate di Filmi Pro, basta che clicco di fuori della schermata da cui ho fatto accesso in questo momento. Bene, amici, io vi ringrazio per aver seguito questo video. Avete visto che nella sensazione della libreria possiamo già dare un primo taglio, però, ovviamente, una cosa che possiamo fare sicuramente in post-produzione. Vi ringrazio, ovviamente, per tutti gli iscritti che stanno arrivando. Penserò sicuramente a qualcosa per ringraziarvi veramente di tutto cuore. Intanto, beccatevi queste belle lezioni su Filmi Pro. Io vi ricordo che è il primo tutorial in italiano gratuito per questa applicazione che trasforma il vostro smartphone in una vera e propria videocamera professionale. Ciao! Ciao!